Sono Giulia Marchionni e sono consigliere comunale a Pesaro. Io ho sfruttato e utilizzato i servizi di Rossini TV durante la campagna elettorale. È stato davvero un grande successo perché tante persone nel giro di pochi giorni hanno avuto modo di conoscermi e di vedermi non solo nella città di Pesaro ma in tutta la provincia. Vi consiglio Rossini TV, grande professionalità e davvero servizi all'altezza. Grazie a tutti.